La crisi morde, le perdite non sono più sostenibili e le saracinesche devono irrimediabilmente abbassarsi. E' questo più o meno il senso del comunicato del gruppo Shan che nelle ultime ore, cogliendo di sorpresa persino gli stessi dipendenti e sindacati, ha annunciato la chiusura del punto vendita di Bariblu a Trigiano. Futuro nero, anzi nerissimo, all'alba del nuovo anno, per 119 lavoratori che fra poco più di un mese potrebbero ritrovarsi a casa dopo i licenziamenti collettivi. Una scelta inevitabile secondo il colosso della grande distribuzione che negli ultimi anni avrebbe inanellato fatturati in costante calo con un profondo rosso segnato anche da costi sempre più alti. Le procedure sono già state avviate e giovedì prossimo grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.